comincia il terzo match di questa silver league quarta giornata della x edition e allora abbiamo visto la vittoria il wimbledon contro l'arganzuela il wimbledon sale a 9 punti ma anche capros vincono e stagano a 12 vincendo contro gli astronzi ora tocca a patetico madrid e galacticos anche galactico sono a 6 punti e cercheranno di salire a 9 patetico invece cerca ancora il suo primo punto in stagione e ancora a zero andiamo a vedere un po le formazioni di questo match patetico con rubino luci verosa solimi nendedi e che l'altro centrocampista scusami chiaro anza laterale lo mettiamo cambio anzi graziano a destra luce centrocampo con dei di in avanti torna antonio coppola l'unico che in questa squadra riesce a segnare pensate sei gollo contro i capros da solo i galacticos con tavassi mele re di speranza formisano cesare sposito e guarino in avanti in prestito proprio dalla dalla formazione gli astronzi perché marzocchi non è potuto venire per infortunio proprio nella partita col wimbledon speranza gira il sinistro rubino la palla non entra stava per fare il primo pasticcio rubino coppola è entrata ma non abbiamo voluto dare il gol per pietà diciamolo così infatti schiappa ride se lo fa sapesse capitano mele che quella palla era entrata in porta guardate come ridacchia presa le spalle coppolata passi scrivi rubino a porta no ma che dici chienzo a graziano si buona de rosa va bene rosa la so la so la so limene li ucci li ucci poppola e ndedi servizievale vai 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 corri schiappa qui l'Sk non lo faccio la manita e qui c'è qualcun altro che fa l'Sk vabbè ma io ma io lo faccio per ma io lo faccio perché ma io lo faccio perché stravinco tutte le partite un giorno stima una sgambatura ti fa la partite a pianura però vieni con me in macchina vabbè stiamo facendo il video stiamo parlando dei cazzi nostri per farti capire è bene che tutti sappiano di formisano realizza il vantaggio dei galacticos su punizione 1 a 0 vuole tirare coppola col destro la palla che non passa coppola coppola tutto solo palla sul destro finta sinistro palla in rete coppola 1 a 1 pareggio patetico speranza sul muro spostito fuori 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 altro 5 e mezzo in pagella per te altro 5 e mezzo è la media del 6.1 quest'anno e pensa che io metto 6 come voto minimo agli sbordoniani che perdono 6 a 0 spostito ma non ci credo ma non ci credo ma non ci credo ma non ci credo questo è un gollonzo 2 a 1 ma che gol è di chi è a chi l'hai messo ma sposto ah non l'ha deviata la speranza 2 a 1 così coppola che ci sta che c'è a farà no gennarino ma che cazzo ma si è messo a boss quando finisci fai un paio di foto palla alta per esposito gareggia con solime ne entra in aria e poi porta vuota parte il cross formisano ready palla per rande di sterza serve coppola date palla coppola e lo schema come l'argentina commessi enzo quando vuoi è coppola sterza coppola arriva mamma mia solime ne cosa hai fatto arriva mele c'è de rosa mele scivolata mamma mia vola vola un malleolo formisano pennella guarino di petto si gira trova ready che però non riesce a saltare solime ne non ne ha più di rosa saltacuarino col destro qua li ucci col destro intanto formisano no genni no arriva gennarino guarda quanto è carico è carico di meraviglia ho visto quello che ha di 12 anni che ha segnato mamma mia 2005 hai visto il gol che ha fatto si wow finta contro finta solime ne cerca addirittura la palla nello spazio esposito si allunga ancora cesare rete sul primo palo 3 a 1 vedi porta la sfera vediamo se cerca qualcosa di là non lo trova e allora guarino uno dico speranza ancora guarino passa guarino guarino gol fantastico di sergio guarino e allora hai 3 a 1 il risultato e faceva il video ma comunque lui ha fatto l'arbitro oma senti cosa speranza per guarino rubino ho fatto l'unico gol occhio perché che è successo addirittura una punizione si vede che l'arbitro ti fa patetico ma mica tira prova coppola solo lui che può riaprire il match quasi capocannoniere la silver vediamo coppola toccata guarda come ride stava mentendo solime ne coppola formisano guarino il tocco verso cesare esposito poi ancora guarino cerca speranza ready ancora ready sbaglia andeti per fare il condizio ci portiamo pure Luca Lecce gialla ma anche cesare viene c'è il camion degli handicappati no ma senza nino riccio e upapalla e nino riccio upapalla upapalla al capotavolo upapalla al capotavolo a qua che è un numero di formisano taglia il campo marco formisano allarga speranza uno o due puoi recuperare di rosa vedi di mano di mano hai fatto ratezzato poi vai il tempo adesso che vuoi fare ratezzato ah lo so ah ma l'ho pagato padre t'ha passato vabbè non è male occhio alla palla di rosa non ci credo tavassi ma che fa quello là parte il cross ancora con le mani di rosa di testa al volo Luci coppola circa andedi no vada solo una bella partita siete molto simili colpo di petto coppola la tiene scivolata a esposito ready tocchetto anche andedi per fare rima già battuta la rimessa esposito in aria prende in largo poi ready tocco in avanti salta solimene ufficialmente saltato il muscolo mi sa no è sempre quello ormai la fascia è debole cesare esposito rubino il tocco per formisano che spacca la porta e si chiude il primo tempo fatto gol speranza allungando la distanza quasi un baratro che divide adesso Galacticos e Patetico Madrid sono i Galacticos a dominare il gioco con pochi spicchi di Francis Ford coppola questo è uno di questi coppola speranza dice no allora riparto i Galacticos con formisano solito vede chiude Urandedi coppola palla sul destro sinistro destro coppola Tavassi migliorato tantissimo Beppe è uscita Tavassi è diventato proprio un bel portiere un bel portierone una squadra attenzione col tunnel abbiamo parlato un po' troppo presto Tavassi torna subito a far cagare appena lo elogiamo quindi lo continueremo ad elogiare per tutto il resto della partita va a Cesare esposito alla battuta deviata calcio d'angolo guarda un po' di ghiaccia attenzione perché Guarino si accaparra un bel calcio di punizione attenzione perché ora Speranza può provare il tiro alla gran distanza parte Speranza male nel frattempo guadriamo guadriamo Dario Falvo intendo a gustarsi la Silver League attenzione perché sta partendo Coppola Coppola serve in dedi ora ancora Coppola palla sul destro Coppola contro Redi Coppola esce benissimo Formisano ora la palla è nei piedi in dedi Tavassi un grandissimo portiere forse uno dei migliori di tutta la Silver League pensiamo perché ora può ripartire Esposito tocca dietro per Formisano può cambiare tutto non lo fa ancora l'incommensurabile Tavassi su Redi il tocco è via per Speranza si è allungato ancora Redi prova a servirlo Speranza finisce col creare un bellissimo dribbling Speranza Speranza ancora Speranza cambia tutto per Formisano il tiro alla lunga distanza ce l'ha il sinistro un po' meno sinistro e finisce alle stelle può ripartire Perin che prova il rilancio lungo ancora Formisano a dir di no in acrobazia Formisano serve Speranza all'1-2 anzi no Guarino Guarino entra in area valla al piede The Wizard va un soffio dall'area 37-1 un rasolimene la palla non deve rimbalzare attenzione perché l'arbitro è pignolo nonostante il risultato sia già molto lungo non si fanno proprio non controlla attenzione la palla è per Speranza Speranza si aiuta è buona è buona è buona è buona ora Formisano 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 Coppola può ripartire può dare ancora un fiore di Speranza al patetico Coppola Coppola angolo ma starvi dando Marco ma poi quale calcio di che calcio fai? quello al pallone che non ha chiappato attenzione calcio d'angolo lo seguiamo con la Solime Nekam attenzione Coppola palla sul destro Tavassi ha aiutato da mille partiamo con 30 secondi di Solime Nekam la palla è bellissima per Dedi recupera Formisano allora noi torniamo con la Solime Nekam che deve difendere su Formisano arriva Formisano Solime il gran capitano a mettere fuori ancora Solime c'è pallo ma che fai a fare il pallo quando hai perso la palla può ripartire con la rincorsa Cesare Esposito calcio di punizione da distanza la parte Esposito la palla carezza il palo e va fuori la palla è per Coppola il controllo di testa poi con la spalla la finestra solo col piede Coppola non è fallo sono dello stesso parere dell'arbitro The Wizard l'aveva riconquistato in modo regolare Ura Redi la palla è buona per Speranza Speranza Solime è ad inseguirlo torna torniamo con la Solime Nekam attenzione il gran capitano a mettere fuori Formisano con un braccio ora Solime Coppola Coppola palla sul fondo vediamo arrivare le trafile del Bayern Neverlosen oggi ci aspetto una partita bellissima un po' di Solime per favore un po' di Solime per noi attenzione seguiamo l'azione palla fuori di un soffio si dispera il gran capitano ciao e poche volte tiriamo a porta poi prendiamo pari contro pari quasi un'intervista andiamo a vedere Solime che sale Coppola 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 ancora calcio d'angolo anzi è punizione Solime mettiti in buona posizione solide mettiti in buona posizione ecco così vedremo sia Solime che la punizione vediamo la punizione senza staccare la Solime e Cam parte Coppola la rincorsa breve il tocco attenzione perché ora Solime deve andare in chiusura sul Formisano madonna mia brutto calcione forse arriverà un cartellino vediamo se l'arbitro no Solime non necessita di cartellini secondo l'arbitro non c'è bisogno di cartellini ci sarebbe bisogno più di un elettroshock per Solime ma l'hai fatta vieni 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 non faccio foto va bene fai solo video tu ma non funziona aspettarsi va bene attenzione perché può partire Formisano Formisano il tiro una ripresa in nuova tecnologia viene bene pure così se sei bravo a cogliere l'attimo così il miracolo di Perin batte qua tu fai capito vabbè non da dietro Solime ne la mette fuori il gran capitano ora può ripartire in Dedi la tiene dentro Dedi Dedi Mele poi Esposito poi The Wizard ancora Esposito The Wizard si propone Speranza un secondo palo caga The Wizard andiamo guardala ma Carlo che sta facendo quanto manca attenzione Dedi Dedi fermato benissimo da Mele ora Speranza 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 The Wizard guarda la pallera è già uscita lascia il pallone no no fermo mancano 14 minuti ok ok non la puoi prendere eh attenzione Coppolapalo anche sfortunato anche sfortunato ora attenzione The Wizard va via Speranza spalle alla porta pressato al gran capitano Speranza lascia per Formisano che la scodella sull'orecchio destro di Dedi Formisano palla sul destro serve bene Speranza che gliela restituisce anzi no anzi sì Speranza 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 che puoi dire attenzione ha preso una brutta pallonata sull'orecchio Dedi per sincerarci delle sue condizioni Dedi quanti sono questi non ci sentirà ma ci vede benissimo Richard Dedi buona palla dentro la tocca quel tanto che basta De Rosa per far ripartire la controoffensiva patetico ci ha provato dalla lunga distanza Francis Ford Coppola non è riuscito a inquadrare la porta allora Formisano Formisano prova a servire Esposito ci riesce addirittura blocca un tempo per il ma Cesare Esposito a porta attenzione Solimene non sembra interessato a velocizzare l'azione The Wizard si frappone e conquista di nuovo possesso The Wizard Speranza The Wizard Formisano ottima la parata del portiere non è una spiacevole sorpresa al portiere di oggi del patetico Coppola il tocco e se sbaglio anche questo Beppe recuperare sarà un'impresa davvero difficile Tavassi lancia The Wizard Solimene nella tira in campo attenzione perché inizia a capirti ben poco del ritmo del match Speranza The Wizard The Wizard Formisano partita è chiusa rimessa laterale per il patetico Madrid insomma offensiva la scodella di Tavassi con molta certezza fa ripartire Speranza Speranza il tocco è per The Wizard che si allontana dalla porta The Wizard il numero Piove sul bagnato anche cartellini gialli che fioccano per il patetico Madrid intanto vediamo il Capros che nemmeno se ne vada questo spogliatoio non ancora avete lasciato tutti lo spogliatoio intanto questa la banneremo uscirà la criptata che noi dobbiamo attenzione perché abbiamo l'aggressivissimo va la battuta Solime ne ha problemi a capire il raggio della distanza ora Formisano Formisano in mezzo a due Marco Formisano Formisano la risultato parziale largo larghissimo 11 a 1 Formisano della squadra da battere però Schioppo ha ingarrato il caricabatteria meglio di te coppola e poi calcio d'angolo calcio d'angolo sembrava un po' Alexandro Buffon sì io mi smonto ancora coppola occhio è ready che mette in angolo bravo bravo ready bravo ready molto bravo ready guarda se è quello mio a prendere un bocchino cross rubino su espositor spinge smetti di riprendere la palla dentro guarino rubino lo so però funziona così coppola non sbaglia mai ma il parziale non era 11 a 1 quanto stanno 8 a 2 ma che schifo tavassi che fa tavassi rubino l'alo devi infinocchiare devi fare così e mo e mo tavassi 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 o che penso di avermi essermi preso in isolazione tavassi cozzo di cuore doppia azione di costaletto offre coppola liucci poi non è vero che l'età media bassa ma gli dai la bassa ma tutti coi tani nostri ancora coppola e c'è il gol di speranza a questo punto un altro gol quindi siamo 9 a 4 occhio 9 a 4 9 a 4 1 a 4 prima ricardo cenzo speranza e calcio di rigore lì eh calcio di rigore no notà non l'hai tirato non ti permettere non ti permettere non ti permettere guandare la classe con zalone di 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 faccima no 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 non esiste proprio leva questo da qua io sto a 2 gol non posso mai non puoi mai stare a un gol d'amico sta faccia non puoi sbagliare non puoi sbagliare puoi sbagliare Tavassi non sbagliare non sbagliare non sbagliare Tavassi quante date una partita 101 buona rischi, buona rischi